Musica Mal tempo nelle Marche, messa un'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Musica Trasformare il canale Albani in un corridoio ecologico, la proposta di Sir Filippi che ha incontrato Enel Green Power, è urgente, è evidenziato il sindaco, l'intervento di disinfestazione contro le zanzarie. Ex caserma Paolini, l'assessore Santorelli replica Cucchiarini, lavori già avviati, dialogo continuo con il demanio, previsto anche un confronto con la città e il consiglio comunale. Musica Più protetti dalle alluvioni, in funzione alla vasca di espansione di Bettolelle, che ha una capacità di 800.000 metri cubi d'acqua, la nostra valle, ha detto il sindaco di Senigallia, attendeva questi interventi da 40 anni. Musica Alla chiesa del suffraggio si è tenuto l'ultimo appuntamento dei giovedì della confraternita, tema della serata, i 70 anni della Madonnina del Miracolo. Musica Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha diramato una nuova allerta idrogeologica di livello giallo. Il provvedimento è stato esteso a tutta la Regione Marche ed è valido fino alla mezzanotte di domani, 18 settembre. Inoltre, per le aree settentrionali, interne, collinarie e costiere, è stata messa anche un'allerta idraulica. Sono infatti previste precipitazioni continue, diffuse e persistenti, generalmente di debole intensità, contemporanee intensificazioni dovute ad attività convettiva. I venti saranno deboli o moderati lungo la costa, mentre il mare sarà mosso o localmente molto mosso. Disinfestazione delle zanzare, cura del verde, protocollo per la gestione degli anatidi e futuro del canale Albani. Sono questi i temi affrontati durante l'incontro che si è tenuto oggi tra l'amministrazione comunale di Fano ed Enel Green Power. Ce ne parla il sindaco Sir Filippi che ha lanciato una proposta. Sentite. Continua il percorso con Enel Green Power, che è la gestione del canale Albani. Questa mattina, sindaco, c'è stato un nuovo incontro. Ci sono delle novità sulla disinfestazione rispetto a ieri? Sì, come già ci aveva anticipato, Enel Green Power è disponibile a fare la disinfestazione dentro il canale. Quindi abbiamo deciso insieme di iniziare, riniziare insieme, quindi probabilmente tra domenica e lunedì, quando il tempo lo permetterà, quindi che non ci saranno più le precipitazioni, sia il comune per quanto di sua competenza, sia Enel all'interno del canale, provvederà alla disinfestazione. Avete discusso anche del rinnovo del protocollo d'intesa per la gestione dell'Avifauna. Che cosa è emerso? Sì, a fine anno è in scadenza il protocollo d'intesa, quindi intendiamo aggiornarlo anche alla luce delle novità, nel senso che quest'estate purtroppo c'è stato l'avvento dei lupi, oggi possiamo conclamarlo, possiamo dirlo chiaramente, che erano dei lupi, quindi è importante aggiornarlo. L'onel abbiamo messo in sicurezza nella Darsena borghese e quindi è importante continuare con il protocollo d'intesa e c'è la disponibilità di Enel a continuare questo percorso importante. Qual è la sua visione a lungo termine sul futuro del canale Albani? Sì, allora innanzitutto riconosco a Enel Green Power che ho sollecitato quest'estate sin da subito per la pulizia a lungo il canale, soprattutto nella tratta urbana da Sant'Orso a Fano. Nonostante loro hanno avuto difficoltà con la ditta, hanno sempre risposto positivamente ai miei interpelli, io ho chiesto a Enel se erano interessati a ragionare in prospettiva, perché non è possibile ogni estate ragionare in emergenza con le anatidi, piuttosto che con il verde, piuttosto che con le zanzare oggi. Quindi è importante ragionare in prospettiva e ho lanciato il tema di un interramento del canale Albani che potrebbe diventare veramente un corridoio ecologico che collega il centro storico con la nostra periferia. Questo significa sicuramente chiudere definitivamente questo corso d'acqua che è un corso d'acqua secondario e naturalmente a questo punto Enel uscirebbe di scena e potrebbe invece tornare molto utile a tutta la collettività e quindi con i sottoservizi da parte di Aset che a questo punto potrebbe allacciare e creare anche le fognature sia acque chiare che acque scure e utilizzarlo anche per le acque reflue come oggi o quindi tutte le acque meteoriche che vanno a finire all'interno del canale. Quindi un utilizzo completamente diverso, visionario, sulla quale ho colto con molto piacere la disponibilità da parte di Enel a ragionare anche in vista della scadenza della concessione che è nel 2029. Quindi dovremo fare tutti i passi necessari per far sì che arriviamo a un progetto, a uno studio di fattibilità per ragionare su queste ipotesi. Naturalmente lasceremo invariata la parte finale e quindi con un laghetto che al punto diventerebbe artificiale perché comunque i fanesi sono molto affezionati, i bambini ma non solo, ad esempio tutto il tratto dei passeggi e anche il tratto finale, quindi potremmo continuare a tenere sul lato finale sia una pista ciclopedonale sia un laghetto artificiale per le anetre. È un tema che ho lanciato insieme agli assessori Lari, Curzi e Magherlino ma che abbiamo condiviso in giunta e che secondo me potrebbe rappresentare veramente quello che serve a Fano. Penso che le dichiarazioni del professor Burioni sul focolaio autoctono del virus Dengue emerso a Fano e a San Costanzo dovrebbero sollecitare la giunta regionale ad attivarsi per contenere ed evitare il rischio di una diffusione del virus su tutto il territorio regionale. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Renato Claudio Minardi che ha presentato un'interrogazione sottoscritta anche da altri consiglieri del partito. Ritengo, ha detto Minardi, che almeno per il futuro il problema debba essere affrontato in modo preventivo e non a posteriori. Sarebbe bene infine che la regione si facesse promotrice di una campagna di comunicazione per spiegare bene ai cittadini quali sono le modalità di contagio e cosa fare per prevenirlo. Ora torniamo a parlare dell'ex caserma Paolini perché oggi l'assessore Alberto Santorelli ha replicato alla consigliera del PD Sara Cucchiarini che ieri ha presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta se ha avviato le interlocuzioni con il demanio dopo il trasferimento del bene a titolo gratuito e se intende portare la delibera di acquisizione in Consiglio Comunale rimasta in sospeso durante le elezioni. Sentiamo. Avrà avuto modo la consigliera Cucchiarini di leggere qualche atto che sono quelli che abbiamo anche trasmesso all'agenzia del demanio dopo gli incontri che abbiamo fatto durante l'estate ma soprattutto la delibera con la quale ultimamente abbiamo dato mandato di prevedere i lavori di rifacimento del piazzale, di sistemazione, di manutenzione del piazzale dopo ovviamente aver avuto la possibilità della consegna anticipata da parte del demanio perché questa è la richiesta che abbiamo fatto e quindi stiamo attendendo l'ufficialità da parte del demanio di questo. Successivamente andremo in Consiglio Comunale per l'acquisizione della Caserma Polini piuttosto ci sarebbe da domandarsi e da chiedere anche all'ex assessore Cucchiarini del percorso che avevano scelto per proporre il progetto di fattibilità economica finanziaria della Caserma Polini perché se l'è intestato interamente l'ex assessore Cucchiarini con il sindaco Seri senza un minimo di confronto né presumo con la Giunta né sicuramente con il Consiglio Comunale né tantomeno con la città. Quindi c'è una somma di fatto impegnata di 8 milioni di euro che prevedono degli iter che non sono stati per nulla condivisi. Cosa che invece faremo noi ovvero con un processo di condivisione con la città e anche con il Consiglio Comunale ma posso dire alla consigliera di stare assolutamente tranquilla perché da parte nostra non c'è alcuna volontà laddove gli iter sono corretti a portare avanti le questioni. Invece visto che fa riferimento a delle variazioni di bilancio fantasiose dimostreremo con atti in Consiglio Comunale che abbiamo diciamo in questi mesi dovuto far fronte ai tanti debiti e soprattutto alle tante macerie delle opere pubbliche che la precedente amministrazione ha lasciato e quindi abbiamo dovuto rimpinguare i capitoli, i progetti, i finanziamenti, le opere e gli appalti per andare a intervenire laddove l'incapacità della precedente amministrazione ha lasciato quello che oggi si vedono nei cantieri nella città e sui quali abbiamo dovuto destinare tantissime risorse. E c'è un'altra interrogazione che ha depositato il PD di Fano e che riguarda i ritrovamenti archeologici all'interno del cantiere di piazza Andrea Costa. I consiglieri comunali, i fanesi, cucchiarini e i tinti chiedono al sindaco e alla giunta se esistono informazioni dettagliate sui ritrovamenti come proseguirà il cantiere anche contemperando le necessità degli ambulanti se si continuerà l'indagine archeologica a livello romano e se verrà aperto il terzo settore per una esplorazione unitaria. Ora passiamo alle vostre segnalazioni che ci portano prima in zona Sassonia dove un nostro telespettatore ha girato questo video nel passaggio pedonale del cavalcavia di Viale Battisti come se vince, ci ha scritto il reporter, manca l'illuminazione e il percorso è completamente al buio ciò rende il posto molto pericoloso. Da via 4 novembre invece chiedono rifacimento di una piccola parte della carreggiata all'altezza della gastronomia prima hanno detto che si faccia male qualcuno. Ora cambiamo argomento a Senigallia in funzione della prima vasca di espansione in zona Bettolelle-Brugnetto a 40 anni dalla sua ideazione una data simbolo per il territorio colpito dall'alluvione di due anni fa il servizio è di Carlo Leone. Sono terminati i lavori per la prima delle vasche di espansione che dovranno difendere l'abitato di Senigallia dalle nuove esondazioni del fiume Misa quella di lunedì 16 settembre è stata una giornata storica per il territorio perché a due anni dall'alluvione del 15 settembre 2022 entra finalmente in funzione a Bettolelle e a Brugnetto di Senigallia la prima cassa di laminazione in cui far stoccare in modo naturale quindi senza l'intervento dell'uomo 800.000 metri cubi di acqua in caso di piena del fiume Misa che scorre a fianco. Il funzionamento della vasca di espansione e il meccanismo con cui entrerà in funzione lo ha spiegato Lucia Taffetani, dirigente del Genio Civile Marche Nord durante un sopralluogo effettuato nell'area assieme al sindaco Massimo Olivetti e all'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi. Stiamo parlando di due vasche di espansione e raccolgono nel loro massimo circa 800.000 metri cubi la prima e 200.000 la seconda per un complessivo appunto di un milione semplice. Significa che nel momento in cui si attiverà la cassa avremo progressivamente il riempimento della prima vasca e poi successivamente il riempimento della seconda attraverso dei sifoni che collegano i due invasi. Cosa cambia con l'entrata in funzione della nuova vasca di espansione a Brugnetto Bettolelle? Lo scopo è quello di ridurre la pressione sull'abitato senigallese in caso di precipitazioni abbondanti che facciano salire repentinamente il livello del fiume. Per questo è soddisfatto in primis l'assessore Stefano Aguzzi che ha parlato di un'eredità raccolta e finalmente portata a compimento dopo circa 40 anni dalla sua prima ideazione. Lo stesso Aguzzi ha però anche avvertito che quest'opera ingegneristica non azzererà il rischio di nuove esondazioni. Abbiamo suddiviso in due il progetto, uno da 6 milioni di euro, 800.000 metri cubi che è quella che inauguriamo oggi, altri 900.000 euro per altri 200.000 metri cubi che sono in ampliamento in questo momento. Questo non impedisce però oggi di avere una vasca di espansione perfettamente funzionante perché grazie proprio ai lavori partiti nel 2021 poi danneggiate e rallentati purtroppo anche qui dall'alluvione del 15 settembre successivamente ripresi e oggi ultimati ci consentono di avere a disposizione un'area di espansione che in caso di una grande piena che potrebbe mettere in pericolo a valle di questa zona, la Senigallia e anche le frazioni limitrofe di esondazioni come è avvenuto purtroppo più volte in passato ecco in questo caso l'acqua esonderebbe qui in maniera naturale di conseguenza non esonderà più all'interno di Senigallia ma esonderà qui in questa vasca di 800.000 metri cubi. Particolarmente soddisfatto si è dichiarato il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che ha però posto l'accento su ulteriori interventi da realizzare nel prossimo futuro. Da un lato ci sono le problematiche della zona della Marazzana con una nuova area di laminazione naturale da realizzare sempre a difesa del centro storico di Senigallia. Dall'altro ci sono le delocalizzazioni delle abitazioni a valle di Bettolelle che sono state richieste da alcuni abitanti e di cui il sindaco Olivetti sta parlando assieme alla struttura commissariale e alla regione Marche. Oggi questa non è una vasca che sicuramente sappiamo benissimo tutti che non sarà risolutiva per il territorio, soprattutto per il territorio senigallese. La necessità di altri interventi sia quelli a monte che sono stati già preventivati da parte del Genio Civile Regionale sia soprattutto quelli a valle. Su quelli a valle io ribadisco che abbiamo un'area di laminazione naturale che non necessita di particolari opere costose sulle quali c'è un dialogo aperto con Babini e spero che come avendola già messo lui tra le opere da finanziare o finanziate con i 400 milioni verrà realizzata presto. Questa area di laminazione permetterà anche di essere molto più tranquilli a Senigallia che ovviamente è la parte finale. Questo è un fiume che ho detto mille volte anomalo perché parte largo e finisce stretto e su questo noi dovremmo ragionare molto. Quello che ho chiesto anche è di poter spostare tutte le famiglie che sono a valle di questa vasca e quindi praticamente prevedere non tanto una delocalizzazione ma un vero e proprio sproprio perché è giusto anche che percepiscano quelli che sono i valori delle loro abitazioni e non somme solamente parziali. Quindi su questo l'intervento del Comune come è successo sempre in tutti questi mesi e anni sarà costante nei confronti appunto della Regione Marche, del Commissario, del Vice Commissario e anche delle strutture governative. Oggi è la dimostrazione, si passi dalle parole ai fatti perché ribadisco la nostra valle attendeva questi interventi a 40 anni ci sono stati troppo alluvioni, troppi morti e penso che questa sia la risposta più giusta. L'inizio è la risposta più giusta. E per il superamento dell'emergenza alluvione nelle Marche il Governatore Francesco Acquaroli ha siglato un accordo con la società Sogesit. L'obiettivo è fornire supporto nella gestione degli interventi necessari per superare gli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le province di Ancona, Pesor Urbino a partire dal 15 settembre 2022. L'intesa prevede che la Società di Ingegneria in House delle amministrazioni centrali dello Stato fornisca supporto tecnico, ingegneristico, amministrativo e legale per la progettazione, esecuzione e la gestione delle opere di ricostruzione inclusi i servizi legati agli appalti. Inoltre l'azienda si occuperà della revisione e della documentazione progettuale della preparazione dei progetti e della gestione delle autorizzazioni e dei collaudi. Il 18 settembre il reparto di Otorino Laringoiatria dell'asta di Pesor Urbino aderisce alla Campagna Europea di Educazione e Sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo mettendo a disposizione visite gratuite all'ospedale Santa Croce di Fano. Come spiegato dal direttore dell'unità operativa Luca Dascanio una rapida comprensione della visaglia e della malattia è cruciale per una diagnosi precoce in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all'80-90% contro un'aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata. Per accedere alla visita gratuita è obbligatoria la prenotazione chiamando nella giornata del 18 settembre al numero 0721 882434 dalle ore 12 alle 13 e 30. Il prossimo 22 febbraio 700 fedeli viaggeranno da Pesaro a Roma in treno per il Giubileo a presentare l'iniziativa l'Arcivescovo Sandro Salvucci e maggiori dettagli verranno forniti durante il convegno che si terrà il 19 settembre all'Auditorium Scavolini di Pesaro. Le diocesi di Pesaro, Urbino, Fano, le tre diocesi della metropolia hanno deciso di lanciare l'anno giubilare a partire da questo incontro a cui abbiamo invitato e siamo molto onorati di avere la presenza di colui che è chiamato a organizzare, a coordinare tutta l'organizzazione del Giubileo del 2025 che è il pro prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione Monsignore Rino Fisichella. Quindi siamo molto contenti di accogliere tutti quelli che vorranno all'Auditorium Scavolini. Il Giubileo dunque è un'esperienza certamente di fede che innanzitutto è proposta ai cristiani ma è una realtà che contiene un messaggio importante per tutti gli uomini e per tutti gli uomini e le donne di buona volontà perché in questo tempo così difficile che viviamo segnato da conflitti, da ansie, preoccupazioni dettate dai conflitti, dalle guerre, dal cambiamento climatico dall'incertezza dell'economia e da tante altre fatiche e difficoltà che vive il nostro tempo vivere il Giubileo vuol dire annunciare una speranza, rianimare la speranza il desiderio del Santo Padre è di caratterizzare l'anno Giubilare del 2025 sul tema della speranza ecco il bisogno che tutti gli uomini hanno di sperare in un momento così difficile A Fano si è svolto l'ultimo appuntamento della rassegna i giovedì della confraternita durante il quale Manuela Palmucci ha raccontato una storia avvenuta 70 anni fa a Fano ce ne parla Cristiana Guerra Giovedì scorso nella chiesa del suffragio di Fano si è tenuto l'ultimo appuntamento dell'estate con gli incontri settimanali organizzati dalla confraternita del suffragio protagonista dell'evento Manuela Palmucci che ha illustrato ai presenti un'altra pagina di vita cittadina fanese i 70 anni della Madonnina del Miracolo un'immagine sacra fatta costruire nel 1954 da un sacerdote fanese che riuscì a salvarsi miracolosamente in seguito ad una brutta avventura Manuela innanzitutto dove si trova la Madonnina del Miracolo? Allora la Madonnina del Miracolo si trova esattamente in zona Porto vicino alla chiesa di San Giuseppe al Porto non è accanto alla chiesa ma è attaccata ad un'abitazione privata di colore giallo al momento non sappiamo se successivamente potrà essere cambiato il colore è una Madonnina con un bambino Madonna e bambino con un bambino in piedi bianca con tante verniciature sopra non si riesce neanche a capire di quale materiale sia fatto proprio perché nel corso degli anni ha subito tante riveniciature Dietro questa immagine c'è una storia di fede, qual è? Allora una storia di fede innanzitutto dobbiamo dire che è stata consacrata il 15 di agosto del 1900 apposta e consacrata nel 1954 quindi 15 agosto del 1954 sono 70 anni quest'anno per ricordare l'evento che era successo tre anni prima grazie a un articolo sul resto del Carlino che abbiamo ritrovato negli archivi ci viene detto che cosa era successo l'evento non era accaduto in quel momento ma era accaduto tre anni prima un diretto Bologna-Ancona stava per investire un passante un passante di lusso perché era un sacerdote che in tutta fretta cercava di superare quel passaggio a livello era probabilmente in ritardo gli è costato tanto perché il vento la velocità sicuramente del diretto lo ha scaraventato a terra non è successo niente di grave si è ritrovato con qualche matoma si è ritrovato con l'abito talare che era sporco e imbiancato ma per il resto non ha avuto altri problemi questa storia è stata raccontata soltanto in famiglia da questo sacerdote e solo da lì a qualche anno ha voluto rendere pubblica l'informazione apponendo a sue spese non solo la Madonnina ma addirittura una targa dove si legge Don Vittorio A 1954 P per grazia ricevuta e questo sacerdote è Don Vittorio Alessandrini di cui conosciamo perfettamente la storia la serata è stata allietata dal coro della Cappella Musicale del Duomo diretto dal Maestro Baldelli che ha eseguito brani dal repertorio sacro a conclusione di questo ciclo di incontri organizzato dalla Confraternita del Suffragio questi interessanti incontri anche la Cappella Musicale della Cattedrale di Fano ha partecipato all'ultimo appuntamento dove è stata illustrata un gruppo scultore dedicato alla Madonna e per l'occasione abbiamo presentato un programma di brani musicali tutti dedicati alla figura di Maria brani della tradizione diciamo della musica polifonica dal Rinascimento fino a composizioni contemporanee e siamo stati molto lieti insomma di partecipare di essere invitati in questa interessante rassegna e ci spostiamo al Codma di Rosciano Afano dove si è svolta con una grande affluenza del pubblico la festa del socio BCC Fanno l'iniziativa è stata anche l'occasione per premiare i primi nove classificati del torneo di bocce rivolto a soci, clienti, amministratori e dipendenti della banca al primo posto si è classificata la coppia formata da Enrico Lisotta e Flavia Morelli c'era per noi Stefania Schiaroli sabato sera al Codma di Rosciano di Fanno hanno partecipato in più di 3.000 persone alla cena per la festa del socio della BCC una affluenza notevole per la tradizionale festa di comunità che è stata anche l'occasione per premiare i vincitori della 22esima edizione del trofeo bocce BCC sono stati 9 i classificati premiati al primo posto la coppia formata da Enrico Lisotta e Flavia Morelli al secondo posto Enzo Bergamotti e Pierino Livi e al terzo padre e figlio Filippo e Davide Sorcinelli quest'ultimo il più piccolo giocatore del torneo le premiazioni si sono svolte sul palco e con premi gastronomici inoltre le prime due coppie classificate è stata donata una medaglia d'oro per ciascuno con foto singole e di gruppo con il presidente della BCC Romualdo Rondina il vicepresidente Luciano Radici e il direttore generale Giacomo Falcioni presente alla serata anche il sindaco Luca Serfilippi la BCC organizza questa iniziativa ma lo fa anche per un territorio più vasto perché abbiamo a Fanno la combattente abbiamo a Lucrezia un'altra società sportiva sempre di bocce le bocce sono un qualcosa che dico va avanti e sicuramente anche per noi è importante molti nostri soci giocano le bocce e quindi le bocce sono sicuramente una caratteristica per stare insieme per fare amicizia e valorizzare questo sport è sicuramente importante molto bello da qua vedere tante persone questo è lo spirito della nostra festa è lo spirito della nostra banca sicuramente è un torneo importante che coinvolge centinaia di atleti è ormai diventato un punto fermo per la nostra città ci tengo a ringraziare la BCC per l'attenzione alle bocce ma non solo per l'attenzione alle bocce perché la BCC è presente ovunque in tutti i settori da quello culturale, sportivo soprattutto sociale ecco il ruolo sociale della banca penso che l'abbia dimostrato in tutti questi anni la BCC è un punto di riferimento per il nostro territorio e i numeri ne parlano da soli nel senso oltre alle presenze questa sera di oltre 3.000 persone oltre 9.000 soci quindi direi una banca in continua evoluzione che è vicina al territorio e vicina alla nostra città da Fanno a Cartoceto dove sabato mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'affiliazione tra la Real Metauro 2018 e la Fiorentina presentata nella splendida cornice del comune di Cartoceto l'affiliazione tra l'ASD Real Metauro 2018 società che si occupa di calcio giovanile sul territorio di Cartoceto di Cogli al Metauro e la CF Fiorentina alla conferenza stampa sono intervenuti il vice sindaco e assessore allo sport di Cartoceto Matteo Andreoni il sindaco di Cogli al Metauro Pietro Briganti per la Real Metauro il vice presidente Franco Calderoni e il responsabile tecnico Cristiano Bartolucci e come rappresentante della Fiorentina Paolo Prioglio mister dedicato alle società affiliate presenti anche i giovani atleti dell'under 15 della squadra di casa entusiasti del progetto prevalentemente tecnico ma allo stesso tempo ci dicono i relatori educativo dal punto di vista sociale la filiazione prevalentemente di carattere tecnico proprio serve per aumentare il livello qualitativo del nostro lavoro con i nostri ragazzi alla fine ci è arrivato proprio alla scelta da parte della Fiorentina che ovviamente ci ha fatto un immenso piacere ci ha honorato proprio perché ha valutato sia a livello tecnico che a livello organizzativo quello che è stato il nostro lavoro che sarà il nostro lavoro è molto importante conoscere anche che noi siamo legati tramite la federazione al progetto tutela dei minori è fondamentale proprio per evitare episodi di bullismo e tutto quanto ne consegue noi abbiamo l'attenzione massima per queste cose è stata una scelta voluta dai nostri soci una società ci contatta noi cerchiamo prima tramite le nostre conoscenze di esplorare un po' capire un po' quello che è il valore della società e successivamente ricontattiamo la società per invitarla a casa nostra a Viola Park e quindi conoscerci un po' a quattro occhi di persona fatto ciò capiamo sia noi ma anche la società affiliata se ci può essere una sinergia una sinergia se questa partnership che va a nascere può essere duratura nel tempo e può creare un qualcosa di valore sia per noi che per la società affiliata l'obiettivo finale è creare giocatori di personalità e educare i ragazzi educare viene da educere tirar fuori e quindi noi dobbiamo proprio trasmettere agli allenatori e alle affiliate noi stessi essere in grado di tirar fuori le potenzialità che hanno i ragazzi ma gli allenatori stessi perché se noi facciamo un buon lavoro le affiliate crescono cresce la qualità del lavoro in campo e soprattutto anche a livello sociale il progetto affiliato è qualcosa che ci tiene particolarmente vi ricordo che domani sera torna a Teleracconto alle ore 20 andrà in onda una nuova puntata condotta da Sergio Ferri gli ospiti saranno il professor Beniamino Sidotti direttore artistico di Gradara Ludens e il sindaco di Tavoletto Stefano Pompei che ci parlerà della Sagra della Polenta tra poco invece trasmetteremo uno speciale dedicato proprio all'affiliazione tra la Real Metauro 2018 e la Fiorentina io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata su Fano TV